La terra santa per noi cristiani è chiamata anche il quinto Vangelo o l'ottavo sacramento perché è il luogo che ci lega fisicamente con l'esperienza di Gesù, che qui è nato, è vissuto, è morto, è l'esperienza anche poi di tutta la rivelazione biblica, dalla Genesi fino all'Apocalisse. Quindi venire in terra santa significa ripercorrere questa stessa esperienza della rivelazione e toccare con le nostre mani gli eventi della rivelazione che ancora oggi sono significativi per tutti noi. Ed è anche un'esperienza culturale molto importante perché è l'unica terra dove vivono tre fedi monoteiste e tante, tante culture diverse. Quindi è un'esperienza unica che è consigliabile innanzitutto per tutti i credenti, per tutti coloro che hanno Gesù riferimento della loro vita perché Gesù è incarnato nel mondo ma è nato qui. Quindi venire qui in terra santa vuol dire anche rivedere anche fisicamente il luogo, la terra, i colori, i sapori che furono anche di Gesù. I luoghi santi di terra santa sono luoghi particolari che ci legano fisicamente con l'esperienza di Gesù. Ma è importante anche conoscere i cristiani di terra santa, ci sono qui soprattutto intorno ai luoghi santi delle comunità cristiane che tengono viva la memoria di quei luoghi, la memoria di Gesù che nasce, muore e risorge. I luoghi santi sono anche parrocchie dove le comunità cristiane si ritrovano. Sono pochi i cristiani di terra santa ma sono una presenza importantissima per tutta la chiesa perché tengono viva la memoria di Gesù, la memoria dell'incarnazione qui nella terra dell'incarnazione. Molti nel mondo si chiedono cosa si può fare per i luoghi santi, per la terra santa, per i cristiani di terra santa. La cosa principale più importante da fare è venire in terra santa che è un'esperienza importante per tutti i pellegrini che così si ricollegano fisicamente con l'esperienza di Gesù. Ma è anche una forma di solidarietà concreta con tutti gli abitanti della terra santa, cristiani, ebrei e musulmani. Quindi il mio invito caldo per tutti è quello di venire in terra santa che è un'esperienza che arricchisce tutti, coloro che vengono e coloro che qui vivono.